Ragazzi, siate coraggiosi, anticonformisti e liberi, ma soprattutto denunciate. Anche io sono stata vittima dei bulli. La Ministra per la Disabilità, Erika Stefani, si è rivolta con queste parole agli studenti che hanno affollato la sala polifunzionale della provincia di Teramo per l'incontro conclusivo della rassegna educativa Abruzzo contro il bullismo. Ad accogliere a Teramo la Ministra Stefani, l'assessore regionale alla pubblica istruzione Pietro Quaresimale. L'iniziativa, curata dal premio Borsellino, è stata patrocinata dall'assessorato all'istruzione della regione Abruzzo ed è consistita in oltre 20 incontri in 18 istituti scolastici, 12 nel Terramano e 8 nel Pescarese e ha visto la partecipazione di esperti relatori, informatici, avvocati, giornalisti, tecnici della Polizia Postale. Quello che volevo dire a questi ragazzi è di essere coraggiosi, di essere anticonformisti, ma di essere al contempo, di essere liberi e nella libertà rispettare chi hai accanto. Questi ragazzi hanno bisogno di sentirsi in una comunità, hanno bisogno di sentirsi in una società. Quello che si diceva la tribù, l'idea di fare parte di una squadra. Nel momento in cui ti senti parte della squadra, tu non sarai mai solo. E anche questi ragazzi non si sentiranno soli, ma anzi supportati, spalleggiati e troveranno chi li sa capire. Il bullismo e il cyberbullismo sono diventati fenomeni assai diffusi nella popolazione scolastica. Solo in provincia di Terramo si stima che il 23% degli studenti delle scuole superiori abbia subito atti di bullismo, mentre il 9% sia stato vittima del cyberbullismo, un'emergenza sociale da affrontare con azioni immediate. I fenomeni di bullismo nei confronti delle persone con disabilità sono particolarmente esecrabili. Sono degli atteggiamenti di una crudeltà infinita, perché la persona con disabilità non solo a volte ha una sua fragilità, ma non ha gli strumenti per difendersi, non ha gli strumenti per difendersi spesso. Può anche accadere che non percepisca immediatamente la violenza in sé e ha bisogno di essere condotto. Prendere la persona che ha discriminato, ha usato la violenza su una persona con disabilità e metterla all'agonia, perdonatemi, è quasi necessario a volte, perché così uno capisce che quelli non sono comportamenti accettabili e che fanno un disastro all'interno anche di famiglie che già devono vivere le loro situazioni di complessità.